Per lo spazio incontri con le famiglie promosso dal Consiglio regionale del Piemonte nell'ambito del Salone del Libro è andata in scena la rappresentazione La Principessa Preziosa. Sono stati i burattini a narrare la storia di una principessa che per sfuggire a un padre despota e crudele è costretta a trasformarsi in scimmia. Grazie all'aiuto di un'anziana fata tra principi, magia, avventura e amore si racconterà una storia capace di rapire gli spettatori sin dal primo minuto. Intervento a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus con Fabiana Ricca e Beppe Rizzo, compagnia oltre il Ponte Teatro.